Come gli animali, i poveri, salvo pochissimi, non hanno bisogni secondari. No, direttore, nell'uomo c'è qualcosa di oltre, no? Il desiderio di un significato c'è in chiunque, anche nell'ultimo povero della terra. Lei pensa? Sì, io spero e credo che sia così, altrimenti è colpa di chi ha costretto questa gente all'abiazione.